Quando prima così ci sarà un consiglio normale sul tema ambientale, sul tema ambientale che sta in colore a tutti i consiglieri come a tutti i cittadini indietro. Detto questo, detto questo, ragione io detto, detto prima, che è un intero passato dal secondo grado all'interno, per cui gli interventi che dovranno sostenere, dovranno, nel conto del secondo grado, cioè dall'attivazione dello regolamento sui controlli interiore. Chiedi di intervenire ancora il Presidente. Presidente, voglio dire, guardate, non è possibile che quello che potete pensare che si arriva avanti e magari fare finta il problema dell'estate. Noi abbiamo già pensato, ma per quanto riguarda le possibilità, che si intende con le manutenzazioni, un tema di carattere generale. Io, personalmente, ho passato in una conferenza di cambiamento e ho invitato di aiuto di tutti i partiti. Io ho sentibilizzato su questo argomento, la conferenza rappresentata di Stefano, e si vedevo dire che se potessi lavoro, non c'è tutto, non c'è tutto da lontanare, ma che sono comprati, se a genere vi ha trovato una cosa di mezz'altro, ebbene, non una parola, non una parola che è stata scesa, la filetia, su quell'argomento, se non quello di una lunghissima diattività, preghi della incompatibilità, giaccega, forremmo con il caratteristico spesico l'andamento di questa nuova. Vada a questo punto a domenico. Siamo ci parecchia una spesifia, e inserita con noi ci parecchia, e non ci parecchia. Nel tanto, noi lo intenziamo, la spesifaria, in trascendenti del caso. Perché ci dobbiamo trascendere, perché è un valore di un senso, e non ci parecchia di altre cose, ma non ci parecchia di persone, che è in grado di essere un po' aci. Ma non ci parecchia di essere un po' aci. Io non ho capito, ma sto, qual è il problema? Che ha un sindaco, se è vero quello che è vero, che ha affettato un po' aci, che la disposta di Stata, predisposta, è un installatore lo siga. Ma non ci parecchia di nostra, a di ruota che così, e si è lasciato aci, oppure che è portata che ci lascia vedere. E' questo vostro modo, di andare avanti. E' un bravo da rendicinare la città, è scapevare. E certamente non è un modo di poter procedere, perché noi non è che abbiamo il Consiglio comunale, soltanto da stendicciare le donne per la partenza. Vogliamo spene, e tutta via, e abbiamo avanti così. Questo, questo argomento, c'è in grado che ci siamo stessi, e abbiamo scritto due necessità, e abbiamo detto adesso. Lo abbiamo già detto in avanti un manchetto pubblico. Questa è un'amministrazione che quando vi pare da risposte ai sistemi importanti, anche tu, a non si conoscere, magari spruciamo tutte le tab, uscendo a provocare con il prezzo di capitutto, consigli comunali, condizioni malistiche, quando si tratta di dare risposte al profondo che interessa non si tratta di dare risposte al Consiglio comunale, ma noi siamo una cosa politica, e su questo argomento, caro Presidente del Consiglio, noi pensiamo assolutamente fare un passo indietro, dovevamo partecipare al Consiglio comunale, e faremo sentire la nostra nuova, di quando non avremo la risposta, alle nostre legittime, internazioni, perché questo loro diparte, di cui tu hai anche la responsabilità di quale ha preso il Consiglio, e a questo punto di identificare la responsabilità di convocare il Consiglio comunale, per rispondere in approvazione, che non hanno risposta, e già, è vero che nessuno ci può mettere una lutta, altrimenti non risposta, ma è un'edita, è una questione anche politica, di rapporti, che ci sono di mantenere, oltre a disegnare che vanno a dare la città, quindi in realtà, noi parliamo la nostra richiesta, e a tutti chiediamo, invidiamo, il Consiglio comunale, tra i Consiglio comunale, quelli che ci lavorano la propria, dietro la posta, di stare attunni, delle commissioni amadorate, per il bene e per la città, a parte di loro voce, a parte di loro voce, a parte di loro voce, grazie. Grazie.